Lei era uno dei candidati per la posizione di dirigente per l'ufficio speciale per la ricostruzione di Teramo, posizione per la quale la regione Abruzzo ha designato l'ingegner d'Alberto. Ecco, oggi quest'incontro vuole essere un'occasione per spiegare qual è la sua idea di ricostruzione, ricostruzione che per lei è sinonimo di rigenerazione. Mi sembrava giusto mettere al corrente la comunità teramana e quella abruzzese di quanto abbiamo prodotto, perché non ho lavorato da solo, ho lavorato con una squadra importante, composta dal gruppo di ricerca del progettore dell'Università di Teramo, il professor Corsi, ci ha lavorato anche un editorialista del Sole 24 Ore che si occupa di project management, quindi è stato un team assolutamente significativo e mi sembrava giusto sia ringraziarli pubblicamente e anche poi mettere al corrente la comunità abruzzese di quella che è la mia idea della ricostruzione, che può essere diversa da quella di altri, però secondo me la trasparenza deve essere un elemento fondamentale anche in questa fase. Quali sono i punti del suo progetto? Innanzitutto la dotazione organica che noi abbiamo ipotizzato essere in 40-50 unità, distribuiti ovviamente tra profili tecnici e profili amministrativi, ma soprattutto la novità importante alla quale hanno contribuito sia il gruppo di ricerca del professor Corsi che Antonio Ortenzi è costruire un progetto in modalità di project management, cioè tutti quelli che in qualche modo venivano coinvolti o sarebbero stati coinvolti avrebbero comunque avuto delle attitudini in ambito di project management, quindi conoscevano benissimo o avrebbero dovuto conoscere benissimo in che modo si sviluppava la gestione del progetto dai flussi di cassa del ministero fino alla liquidazione e poi in buona sostanza avrebbero anche svolto un ruolo di risk manager, cioè avrebbero cercato di verificare se le pratiche per esempio subivano dei rallentamenti e anche i motivi che stavano alla base. Io volevo costruire un ufficio che in qualche modo rispondesse in termini molto veloci alle problematiche del territorio, che non sono soltanto problematiche di ricostruzione, che l'ufficio della ricostruzione come da decreto 229 ha delle funzioni molto specifiche, deve fare lo sportello unico delle attività produttive, quindi deve essere attrattore di investimenti e deve fare pianificazione strategica per i comuni, quindi non ci servono soltanto ingegneri, ci servono pianificatori, ci servono esperti di project management, ci servono persone che hanno una visione dell'insieme un po' diversa rispetto a quella di un tecnico.